care amiche care amiche e care amici mi ritrovo a fare lo stesso episodio perché un giorno fa ho fatto un programma che si vede che io ho schiacciato un bottone non so l'applicazione è cambiata si è attualizzata perché c'è microfono tocca e parla sede che ho toccato lì e non dovevo comunque adesso si accendono le luci del microfono speriamo che registri perché se no passo altri 15 minuti parlando solo con me per fortuna che un amico di instagram che adesso non mi ricordo il nome mi ha detto guarda che l'episodio su sprecher ma anche sul tuo secondo canale di youtube radio santenchan non ha l'audio ebbene io invito quest'amico a commentare l'episodio radio qui sotto sotto questo episodio ea commentare in instagram e nel mio secondo canale di youtube radio santenchan se questa volta si sente l'audio a tutte e tutti voi vi voglio ricordare prima di iniziare la trasmissione che io visto che sono disoccupato e non posso pagarmi l'abbonamento premier queste cose qua salvo tutti gli episodi nel mio secondo canale già dal momento della loro trasmissione sul mio secondo canale di youtube radio santenchan perché poi li dovrò cancellare adesso mi rimangono 38 minuti da registrare in sprecher quando li avrò completati cancellerò tutti gli episodi ma voi non vi fate prendere dal panico potrete trovare se voler vorreste tutti i miei episodi di sprecher non solo su radio santenchan il mio secondo canale di youtube ma per più di quattro anni ho caricato gli episodi di sprecher anche sul mio primo canale santenchan quindi se andate nel mio canale di youtube santenchan e nel mio secondo canale di youtube radio santenchan cercando sprecher troverete moltissimi episodi per la gioia di tutte e tutti voi che mi vorreste ascoltare perché ci sono molte persone che vogliono apprendere l'italiano e mi dicono che ascoltano i miei video perché parlo bene in italiano vabbè vi ringrazio comunque bando alle ciance cercherò di dirvi quello che ho detto nel mio primo episodio e prometto di non schiacciare nessuno strano bottone come questo microfono on microfono off non so che serve poi se non registra più gli episodi vuol dire che o è un problema dell'applicazione di sprecher o del mio cellulare io spero che non sia del cellulare perché i video riesco a a salvarli forse dovevo fare una prova microfono prima vabbè comunque in soldoni quello che ho detto la scorsa volta un giorno fa era la seguente cosa finalmente dopo dieci mesi il ritorno a fare un radioprogramma questa volta addirittura ho tempo per permettermi di fare una live perché un giorno fa lo caricai di notte invece adesso ho tempo di farlo di pomeriggio erano passati il grosso modo dieci mesi perché la live la feci circa a settembre l'ultima live infatti ci sono due episodi che sprecher li indica come nuovi ma non sono nuovi sono di agosto e settembre evidentemente per sprecher tutti gli episodi che sono stati caricati in un lapso di tempo inferiore ai 12 mesi sono episodi nuovi tutti gli episodi che si eccedono dai 12 mesi sono episodi vecchi e quindi io ho due episodi che sono segnalati come nuovi gli ultimi due radioprogrammi che ho caricato a settembre e in agosto quelli caricati con anteriorità sono non sono segnalati come nuovi certo io ho perso iscritti perché ho trasmesso sempre di meno ho trasmesso con molta enfasi soprattutto dal 2013 2014 al 2016 una ragione c'è io sono passato dall avere mille iscritti sprecher all averne quasi 600 che mi continuano a seguire nonostante io non carichi più nulla ma se ho trascurato sprecher è stato perché sono stato molto presente in youtube facebook e soprattutto instagram c'è quasi 15.000 16.000 tra foto e video in instagram vi invito a guardare il mio profilo di instagram è pazzesco come alcune delle mie foto dei miei video ricevano mille like addirittura a distanza di cinque anni di sei anni continuano a darmi like alle foto quindi è un instagram di successo c'è circa 2000 follower e poi in twitter ho perso del tempo perché in twitter mi seguono quasi 8 mila persone il twitter mio è santenchan ovviamente e poi volevo dirvi che ho caricato moltissimi episodi nell'ultimo anno in youtube andate a guardare i miei video e ditemi cosa ne pensate anche dei più vecchi che ogni tanto ricevono commentari comunque non voglio ripetermi non voglio fare come nel passato negli ultimi anni che facevo delle promesse da marinaio cioè vi dicevo ogni volta andate a guardare i miei video che io intanto riprendo a trasmettere in sprecher perché purtroppo mi assorbe molto youtube e ogni anno grosso modo facevo un radioprogramma in sprecher dicendo no ma adesso riprendo a fare a fare radioprogrammi in sprecher adesso ritorno in sprecher invece passano 8 mesi 6 mesi 12 mesi 24 mesi e non trasmetto più ma adesso in poi ve lo prometto non ve lo giuro perché non voglio fare sper giuro poi su che cosa giurerei ve lo prometto che cercherò di fare almeno un radioprogramma la settimana anche perché sto facendo meno video in youtube visto che le visualizzazioni in youtube stanno calando quindi vi invito a tutti tutti voi di sostenermi in youtube e di guardare i miei video e poi un'altra cosa non voglio fare in sprecher quello che ho fatto in wordpress e in blogger che anche lì all'inizio ho scritto molti articoli poi ho promesso a tutti i miei iscritti adesso scriverò ogni giorno una nota scriverò ogni giorno perché io dai 12 anni volevo essere scrittore e poi invece ho scritto 30 40 articoli in wordpress in meno di un mese e anche in bloggest e poi appena ho visto che è difficile che ti seguano e leggano in molti in wordpress non ho più scritto nulla quindi voglio che sia differente in sprecher voglio tornare ai vecchi tempi quando l'applicazione era di colore arancione o addirittura verde mi ricordo che io la usavo con il mio primo cellulare android il samsung galaxy young 53 60 nel 2013 2014 e che ero costretto nonostante pensate voi che a quell'epoca non è che con la cont gratuito tu ci avevi 4 ore no ti davano 10 ore e poi ogni volta addirittura del cellulare non so se potevi caricare mezz'ora o un'ora di programma addirittura mi sembra mezz'ora live e un'ora registrata e quindi io registravo così tanti programmi e addirittura i pensieri del giorno come se fosse un diario personale perché questa è la cosa più bella dei social media trasmettere quello che uno sente quello che uno pensa all'inizio io me ne fregavo dell'audience me ne fregavo che mi sentissero in dieci in cento che scaricassero il programma o che non lo ascoltasse nessuno io parlavo per me parlando per gli altri per questo che io vi invito a cercare i miei programmi di sprecher nei miei due canali dove li ho salvati tanto canali di youtube tanto santenchan come radio santenchan dove ho salvato i miei programmi più vecchi di sprecher per farvi vedere con che spirito registravo era realmente una novità e voglio che ritorni a essere una novità realmente molto grata molto lieta quella di avere un'applicazione che ti permette di essere un radio amatore perché io sin da piccolo avrei voluto avere l'apparecchio per essere marconista no e con sprecherai una stazione radio nel cellulare io non me lo sarei mai sognato da da giovane da bambino di poter avere innanzitutto una cosa come il cellulare che a miei tempi dire che un telefonino era tutto sarebbe stato da pazzi e poiché in un telefonino avreste potuto trasmettere una trasmissione radio era ancora più da pazzi o ascoltare musica o guardare video fare foto fare film allora è quello che vi voglio comunicare quello che non vi ho potuto trasmettere un giorno fa perché qualcuno oggi e lo ringrazio mi dice guarda che i tuoi programmi non hanno audio e quello mi ha disarmato perché oggi volevo fare un altro radioprogramma e così va beh lo faccio di 15 minuti questa volta l'altra volta è stato di 9 minuti speriamo che questa volta funzioni perché sarebbe veramente molto brutto poi non ho potuto accedere allo smart tv perché non so non funziona il navigatore altrimenti avrei potuto vedere se si ascoltava in diretta il 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 programma perché se non si ascoltava smettevo di registrare spero che si ascolti quale lucine del microfono si accendono quindi non so forse c'è stato un problema nel caricare nel caricare il brano comunque vi ripeto se potete seguitemi in youtube se vi aggrada ascoltare i miei vecchi episodi di sprecher cercateli nei miei canali di youtube santenchan e radio santenchan io non ho radiotrasmesso da molto tempo faccio dei post cast dei e poi un'altra cosa che trovo anche molto interessante l'applicazione soundcloud e ho fatto lì anche dei delle trasmissioni talc no dei dialoghi delle chiacchiere però ho riscosso meno successo che in sprecher se voi andate a vedere in sprecher ciò non so quante 70 mila ascolti perché nel mio primo periodo in sprecher in pratica cancellavo i programmi una volta a settimana o a mese anche se c'avevo un limite di 10 ore gratuite e facevo programmi di un'ora mezz'ora adesso devo vedere come sostituire vecchi programmi di un'ora e di mezz'ora per nuovi programmi per non perdere quel limite adesso vi saluto perché sono arrivato a 40 secondi non voglio che inizi un altro programma vi ringrazio di avermi seguito e al più presto cancellerò o sostituirò le vecchie tracce fatemi sapere mi raccomando ciao